Fratelli e ragazze, amici di Facebook e Instagram, buongiorno a tutti ragazzi, un saluto a tutti gli iscritti al canale e buon sabato 6 luglio. Quindi manca esattamente una settimana al ritiro, al ritiro dei ragazzi, di quello che sarà la squadra presente, ecco, perché poi arriverà il blocco italiano e poi l'auti, vediamo il ticos, insomma, quindi quello che si ritroverà a Mister Inzaghi, che credo che il giorno prima, quindi venerdì, ci sarà la conferenza stampa di inizio stagione. Ieri un po' di carne al fuoco, un po' di notizie e poi ragazzi una chicca alla fine dura veramente un minuto e mezzo, però credo che sia poi quella la miglior risposta a chi ha rosicato e chi sta rosicando, nel senso che noi siamo qui belli contenti che stiamo ancora festeggiando, ripeto quello che ho detto dopo che sono stato al meazza a Inter e Empoli con mio figlio, perché poi 70.000, 75.000 a cantare, a godere, a stragodere, ancora dovevamo vincere lo scudetto. E poi arrivare a casa e vedere sui social tutto lo schifo, quindi a chi si infoglia per queste robe qui, che, lo ripeto, fate il loro gioco, io lo dico da un anno però, perché con lo sbadigliatore, ve lo dico da un anno, perché quello lì non fomenta odio, in diversi fomentano odio, poi ognuno decide chi combattere, lo sbadigliatore su Instagram e poi sulla trasmissione che fanno, quel canale dal quale io mi sono dissociato già da due anni, circa, fomentano odio con titoli, con cose dedicate all'Inter incredibili, quindi, poi chi va sotto i post o sotto i video, fate il loro gioco, gli date visual, commentate anche, vi avvelenate, in realtà bisognerebbe ignorarli, questo lo dico a chi si fa il sangue amaro, a chi va a commentare, che poi ti vengono a scrivere, visto quello, cosa ha detto, non caccatevi, non calcolatevi. Quindi mi raccomando ragazzi, alla fine, alla fine, che è molto carino. Allora, la prima cosa, la prima notizia è Biper, o Biper, credo Biper Training Center, quindi la banca Biper, si sapeva, però non c'era ancora l'ufficialità, io qualche video fa ho detto, ma come siamo messi a da piano? Ecco che ha preso forma il Biper Training Center in memory of Angelo Moratti, e questa cosa mi piace molto, con un bel venti, con un bel tricolore, e la tribuna, insomma, ci sono un po' di foto, la sala stampa, insomma, è stato addobbato a dovere. Adesso poi bisognerà vedere tutto il materiale tecnico targato Qatar Airways, che è anche quella, è una bella novità, e sono anche più soldi, perché qui credo che sia 3 milioni Biper, da quello che ho capito, quindi non è tantissimo, però insomma, insomma, tipo E5, non so quanto era Leo Vegas prima di Qatar Airways, quindi scopriremo anche quello, quindi questa è la prima novità. Poi, ovviamente, c'è il calciomercato, ragazzi, il calciomercato, e voi sapete, io mi rifaccio sempre alle parole dei diretti interessati, io credo a loro, credo, poi se ci prendono per il culo, ci può anche stare, le famose bugie bianche, però chi è che devo credere? Ha parlato ausilio, ha parlato, quindi, proprio in merito a Buchanan, all'infortunio, ha detto che, ha fatto capire, insomma, che l'Inter cercherà qualcosa a sinistra, qualcosa a sinistra, magari per liberare un po' di più Carlos Augusto, per far rifiattare Dimash, quindi come braccetto, quindi staremo a vedere, staremo a vedere, e poi soprattutto l'argomento buongiorno, ragazzi, perché, perché è diventata, sta diventando una telenovela, e grazie a chi? Ai soliti procuratori, questo, come si chiama, Beppe Riso, il signor Riso, ha rotto anche un po' il cazzo, ha rotto, usando proprio una sottile metafora, perché aveva iniziato con Frattesi ancora quando c'era la nazionale italiana, e poi abbiamo visto la figura che ha fatto Frattesi in campo, dal primo minuto, e, insomma, ha fatto, queste sono sporcacciate, io capisco che sia il loro gioco, loro fanno il loro gioco, ci mancherebbe, però poi ti dice ausilio, ma l'unico che, perché gli hanno chiesto, ma si sta parlando di Bongiorno, lui dice, l'unico che ne ha parlato è solo una persona, perché l'Inter non ne ha parlato, poi che l'Inter, però non ti sta dicendo che l'Inter non è interessata, anzi, magari è interessata tantissimo, però, a domanda, risposta, quello gli ha detto, si sta parlando di Bongiorno, e giustamente Pierino, tac, ha detto, solo uno ne ha parlato, quindi, ha rotto un po' il cazzo, perché sta diventando un po' come quelli di Ridge Forrester dei poveri, Caimano, sta iniziando, hai capito, a prendere quella direzione lì, quindi, sembra che manca poco a Bongiorno, è un grandissimo giocatore, che mi piacerebbe tantissimo all'Inter, però, insomma, 40 cucuzze mi sembrano anche tante, più o meno, quindi, non c'è ancora nulla di definitivo, però, lui ti dice questo, ti dice, poi c'è la situazione di Evrae, perché è un po' quello che ha fatto un attimino sbloccare anche sta cosa su Bongiorno, perché sembra che ci sia un interessamento dall'Arabia Saudita, e che darebbe bei soldi, che non prenderesti mai da De Vrij, io ne ho parlato l'altro giorno, ho detto, De Vrij ha un anno in più, comunque ha fatto un'ottima stagione, sta facendo un ottimo europeo, è chiaro che però se dovesse arrivare un'offerta, questo sarebbe il suo ultimo contratto, va a svernare lì per dire, prenderebbe una barca di soldi pure lui, allora lì sì che veramente, secondo me già dovresti cercarlo, perché Acerbi ha avuto gli acciacchi l'anno scorso, e speriamo che quest'anno non li abbia, però sei sempre un anno in più pure per il buon acerbone, quindi è un bel punto di domanda, Ausilio ci dice così, ma staremo a vedere, staremo a vedere anche qui, perché poi è vero che poi abbiamo Pavard, Bissek, per l'amor di Dio, che possono aiutare, Darmian, che può fare tutto, lo stesso Carlos su Augusto, però sicuramente un braccetto sinistro dovrebbe arrivare, e questo per quanto riguarda le parole di Ausilio ragazzi, poi è venuto fuori che stamattina, stavo leggendo qua, dov'è, 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 buongiorno, accordo di massima con Napoli, ecco perché l'Inter non ha affondato, non lo leggo neanche, però questo è il titolo, quindi ancora non c'è l'ufficialità, e poi c'è questa cosa qui che magari ci cascano pure loro, io avevo parlato di Arabia, ma se la IK Atene fosse interessata al 2Q Correa, noi saremo anche contenti, poi c'è questo nome Danzo, Hermoso, del quale si era già parlato, Alex Perez a un passo, poi ragazzi io ne avevo parlato un po' di video fa, però l'Inter ha depositato il contratto di Topalovic, io due settimane fa avevo fatto un video, ho detto già il nome è un programma e già ci piace, Topalovic, la topa è la topa, quindi io poi sono andato a vedermi un po' di video di questo ragazzo e non è niente male, infatti si deve aggregare alla prima squadra, non è niente male, perché poi io parlavo di Agume se volevi il settimo, ma in realtà ce l'avresti già in casa, a meno che poi non lo mandano a giocare a qualche parte, ma il ragazzino è veramente tanta roba, Topalovic, quindi già il nome, in più è pure bravo, quindi diciamo 4 per adesso acquisti, perché Zelisky, Taremi, Martinez che salutiamo, che ha fatto le visite mediche e tutto, e Topalovic, poi Alex Perez vicino, vabbè però insomma, questo ragazzo è tanta roba, andatelo a vedere se non l'avete visto, e poi chiudiamo, chiudiamo discorso Inter, col sindaco Sala, col sindaco Sala, perché io mi ricordo che anni fa, quando Inter e Milan dicevano, se ce lo vendi, noi lo gestiamo, no, non si poteva vendere, assolutamente no, io in mezza non lo vendo, al massimo si può fare un 90 anni, 99 anni, Sala, vendere San Siro a Inter e Milan, si può fare tutto, si decidano, non entro neanche nello specifico, mi fanno ridere questi virgolettati, perché poi sono parole, se leggo un virgolettato è perché è una parola uscita come prima ausilio, no, sono cose uscite dalle loro bocche, e adesso lui è a fretta, e no, si può fare tutto, lo ripeto ragazzi, io sono 4 anni che vado avanti, 5, 5, e sono 2-3 anni che dico che tra un po' vi dirà, imbiancheremo le case di tutti i milanesi, e che lì siamo arrivati, e lì siamo arrivati, perché quando sei con le spalle al muro, poi si può fare tutto, quindi chiudiamo col discorso ossessionati ragazzi, perché come vi dicevo, stiamo ancora festeggiando, ieri sera siamo stati ospiti dell'Inter Club Brugherio, ve l'avevo accennata questa cosa, era il 5 luglio, la cena, la cena dell'Inter Club per festeggiare la seconda stella, lo scudetto, eravamo più di 100 persone, ci siamo divertiti una cifra, abbiamo mangiato benissimo, è stato molto bello stare tutti insieme, c'era anche Robbie Phoenix, e quindi è stato veramente un bel evento, organizzato dal presidente dell'Inter Club Brugherio, Giovanni Divuti, che saluto, perché abbiamo un ricordo, ieri anche lui si è ricordato di questa cosa, mi ha fatto piacere, perché io lo raccontavo in macchina a mia moglie e a mio figlio mentre andavamo, la primissima mia volta in TV, perché era la prima TV, era Inter Supporters TV, ed eravamo ospiti, era un pomeriggio, eravamo ospiti io e Giovanni, quindi da lì poi è partito un po' il tutto, quindi abbiamo anche questa cosa in comune, e l'abbiamo ricordata ieri, correva l'anno 2015 ragazzi, quindi un Inter che non vinceva un emerita minchia, a distanza di 9 anni ci ritroviamo con una mega, ma non vi dico niente, guardatevi l'ultimo minuto e mezzo, e questa è la miglior risposta a chi ha rosicato e chi sta rosicando, cioè che noi stiamo ancora festeggiando. Condivisione dei video, in descrizione al canale, sempre Forza Inter, attivate la campanella ragazzi, ciao! It's me, I, I'm the problem, it's me At tea, time, everybody agrees I'll stare directly at the sun, but never in the mirror It must be exhausting, always rooting for the antihero Sometimes I feel like everybody is a sexy baby, and I'm a monster on the hill Io ti rende o lavoro di tecnologiaμ Non dira l'Italia per me Sognando di molti colore Quelleri, quindi del nostro vero amore Quasi dalla furma, un colore albererà Forza l'Azzurri, l'Internazionale, io te lo canterò ogni momento, maia che tu indossi, io quello stemma me lo porto dentro, ci domini laia per te, sognando di nuovo il tricolore, perché l'Inter è il nostro vero amore e dalla curva un coro sanzerà. Forza l'Azzurri, l'Internazionale, io te lo canterò ogni momento, e io sento insieme a noi cos'è, è un rivalità, è un'illietà, Passa non via, l'Internazionale, io te lo vido e faccia non ti passa più.